allora come sono andati gli angoli della settimana scorsa ok vi ricordate abbiamo visto come l'angolo di ripresa e anche l'angolo di campo possono influire sul modo in cui noi percepiamo il soggetto in un contesto isolato in modo oppresso oppressivo opprimente oppressore ok o invece paritetico in questo podcast invece riprendiamo un po l'argomento tecnico dell'esposizione e vediamo un po cosa possiamo dire allora da angolo passiamo a triangolo ok il famoso triangolo dell'esposizione probabilmente ne avete già sentito parlare che cos'è il triangolo dell'esposizione beh che cos'è l'esposizione innanzitutto l'abbiamo un po anticipato in qualche podcast fa allora dobbiamo tener conto che ogni scena ha una sua luminosità ok ora parlo in termini semplici non è una conferenza di fisica quindi da un punto di vista fisico probabilmente sono anche non del tutto corretti ma ci aiuta a capire quindi ogni scena ha una sua luminosità in campo fotografico questa luminosità viene misurata con un valore che viene chiamato ev ok quindi la macchina legge questa luminosità gli da un valore ev e a ogni valore ev corrisponde tutta una serie di coppie tempo diaframma che sono equivalenti tra di loro coppie tempo diaframma riferite a un valore eso ok raff qualcuno dirà già non ci sto capendo più una mazza lo so lo so vi ho anticipato quelli che sono i tre vertici o i tre lati come preferite del triangolo tempo diaframma sensibilità queste tre cose sono le responsabili quindi dell'esposizione ovvero di quanta luce arriva sul sensore e che poi permette la creazione dell'immagine allora due sono da un punto di vista pratico possiamo dire delle unità di misure fisiche una è la quantità di luce che entra e questo ormai dovremmo saperlo lo decidiamo con l'apertura del diaframma come si apre un rubinetto apro tanto esce tanta acqua lo apro poco esce poca acqua o la valvola del gas del fornello apro tanto bella fiamma chiudo metto al minimo e ho la minima quantità di fuoco ok l'altra grandezza fisica che determina l'esposizione è il tempo per quanto tempo quella quantità arriva sul sensore e quindi lo decido proprio impostando la durata dello scatto quante frazioni di secondi o quanti secondi mezzo secondo un centesimo di secondo dieci secondi ok il terzo parametro è la sensibilità e qui è bene fare una precisazione parleremo di sensibilità riferito al sensore dicendo che andremo a modificare la sensibilità del sensore quindi a renderlo più sensibile mi dispiace ragazzi in questo podcast è la fiera della sssss per cui me ne beccherete un po' ok quindi quando diciamo che impostiamo gli iso da 100 a 200 diremmo che abbiamo aumentato la sensibilità del sensore del doppio ok quindi richiede la metà di luce da un punto di vista pratico cioè reale non è così la macchina si comporta in un modo differente però dal punto di vista pratico prendiamo questo assunto ok e ce lo teniamo ok quindi cambiare la sensibilità o gli iso significa far sì che il sensore diventi più sensibile alle luci non è realmente così ma ci serve per capire il discorso quindi se il sensore diventa più sensibile a parità di condizioni di luce possiamo usare un tempo più breve o un diaframma più chiuso per effettuare una foto che abbia la stessa esposizione oppure se fotografiamo all'imbrunire la stessa scena essendoci meno luce che cosa succede che dovremo adattare i valori di scatto tempo e diaframma quindi potremo dover aprire il diaframma per far entrare più luce visto che sta tramontando quindi ce n'è meno oppure se vogliamo lasciare il diaframma com'è dobbiamo allungare i tempi o addirittura alprire il diaframma e anche allungare i tempi però può darsi che questo non sia possibile perché perché ho bisogno di un diaframma chiuso per avere profondità di campo e ho bisogno di un tempo relativamente veloce per evitare il mosso perché sto scattando a mano libera ecco allora che ci entra in aiuto ci arriva in aiuto gli iso quindi anziché variare gli altri due valori tempo e diaframma andremo a variare gli iso aumentandoli fino a quando non vediamo che l'esposimetro se scattiamo il manuale mi segna che i valori sono corretti sullo zero o se sono in modalità semiautomatica poi ci pensa la macchina insomma a trovare il valore corretto ok quindi queste tre grandezze tempo diaframma che sono fisiche e iso che diciamo che è elettronica ok chiamiamola così determinano l'esposizione quindi quanta luce verrà catturata o processata diciamo così e quindi quanto chiara o scura apparirà l'immagine ora arriva la parte un pochino più complicata ovvero questi tre valori sono collegati tra loro c'è un rapporto che li lega ok rapporto di reciprocità che cosa significa che se io apro il diaframma quindi entra più luce per fare una foto identica a quella precedente dovrò diminuire il tempo perché se apro il diaframma e basta entra più luce rispetto a prima e quindi la foto risulterà più chiara quindi se io faccio entrare una quantità maggiore di luce dovrò farla entrare per un tempo minore o al contrario se io la faccio entrare per un tempo maggiore ok dovrò farla entrare una quantità minore in modo che la quantità finale sia comunque la stessa mantenendo la sensibilità fissa ok se ci pensi in realtà non è qualcosa di così strano sei già abituato a questo concetto tu pensa a riempire un bicchiere puoi riempirlo goccia a goccia quindi con un diaframma o un rubinetto molto chiuso e dovrai aspettare una certa quantità di tempo ci vuole più tempo affinché si riempia se tu invece apri il rubinetto al massimo esce una quantità insomma bella sostanziosa di acqua ed ecco che si riempie molto prima pensa al sensore come a un bicchiere d'acqua lo devi riempire della giusta quantità di luce ok quindi in base a quanto tu apri e chiudi il rubinetto dovrai aspettare più o meno tempo affinché si riempia della quantità giusta lo stesso con la luce quindi se apri il diaframma fai arrivare la luce in quantità maggiore quindi ti si riempie subito quindi tempo breve se chiudi il diaframma fai entrare una quantità minore di luce quindi dovrai aspettare più tempo dovrai usare un tempo più lungo per far riempire il sensore della stessa quantità di luce ok e la sensibilità in tutto questo è possiamo dire che la sensibilità è la dimensione del nostro bicchiere ok possiamo avere un bicchierone di quelli proprio enormi se qui una pinta di birra da riempire possiamo avere il bicchierino dei super alcolici ok chiaramente che se io apro comunque il rubinetto il tempo dipenderà dalla dimensione del bicchiere a parità di rubinetto aperto ok di conseguenza se io vario la sensibilità varieranno anche gli altri due o uno degli altri due parametri quindi se io rendo aumento la sensibilità quindi il sensore mi richiede meno luce posso decidere se usare un diaframma più chiuso o usare un tempo più breve o addirittura chiudere un pochino il diaframma e chiudere anche un pochino o diminuire anche un pochino i tempi quindi è importante capire che questi tre parametri sono collegati tra loro c'è un'app molto carina che fornisce un'app in realtà un sito molto carino che fornisce Canon che ti permette di pilotare una macchina fotografica sul web e su internet no finta chiaramente per testare un po' come funziona premesso che con la digital te lo puoi fare direttamente tu ok ma il mio consiglio è vedi un po' come cambiano i valori e andando a cambiare uno degli altri o tutti e due cerca di renderti conto in che misura o perlomeno quale logica sta dietro ok puoi farlo tranquillamente in modalità P quindi tutto automatico vedi che valori ti dà la macchina prova a ruotare la ghiera vedi come cambiano tra di loro poi prova a cambiare il ISO poi fai la stessa cosa anche in una delle modalità semiautomatiche vedi come variando il diaframma ti varierà sicuramente il tempo o con lo stesso diaframma variando comunque la sensibilità ti varierà di nuovo comunque il tempo prova un po' cerca di capire in modo autonomo come funziona in modo che diventi consapevole poi in realtà è una cosa abbastanza una volta che la interiorizzi ti sembra anche abbastanza semplice ti viene a dire ma com'è che hai fatto tutta questa fatica capire un concetto così semplice no? è come guidare all'inizio sembra un po' complicato poi partono gli automatismi bene più ti eserciti più cerchi di diventare consapevole di come funziona e più tutto questo diventerà automatico finisco qua con questa puntata che immagino sia stata un po' tosta me ne rendo conto già è tosto dal vivo durante i corsi con le slide con gli esempi quando facciamo gli esercizi mi immagino sentendo solo l'audio ma chiaramente diciamo che questo è solo un rinforzo per quello che dovrebbe essere poi un'esperienza formativa più completa però mi auguro comunque che ti abbia dato degli spunti interessanti in caso affermativo ti chiedevo di mettere un mi piace o di aiutarci a crescere condividendo questo podcast e ti do appuntamento al lunedì prossimo ciao ciao accento ma mi sta venendo una merda la RIFO hmm